Ciao a tutti, benvenuti a Scriviti al Play, è rimasto che avevo affrontato il Battalos nelle missioni esplorative a livello basso e l'avevo fermato qui, quindi proseguo vediamo un po' che c'è, va bene, c'è anche un po' oggi, ottimo, però ragazzi, a parte l'inventario che può andare bene, non so se questa arma qui può andare bene come a livello di potenza intendo, ne pare un po' poco, direi che questo martello fa parecchio, ho pure un bello spadone, guardate, per dare la testa, lo faccio così, ok, strano le missione, ah ecco, ok, voi ragazzi, hanno fuoco, fuoco, via, benissimo ragazzi, così, però mi sono liberato l'inventario, scusate ragazzi, mi sono scordato di dare l'inventario, mi prendo anche la numbacca, che mi sistema da, bene, via, e pronti per affrontare la missione, bene, qua, ok, rimasso qua, finalmente ragazzi è comparso un mostro che devo affrontare poi ne manca un'altra e dopo siamo a posto con le missioni esplorative a grado basso poi più avanti ci saranno da fare quelle a livello alto ea livello g quando ne sbloccherò intanto qua e con un po manara è maggior parte mi provocato che ti sei beccato il martello in faccia bravi ragazzi una settore va bene ma però strano bene sapersi dov'è essere nata a chi ottimo che l'abrasiva è molto raro anche in questo mi sono in grado basso beh andiamo avanti il mio senso di poggi pizzica bene sapersi qui c'è un bel poggi da acchiappare intanto io vado qua segui poggi? no allora il poggi è qua vediamo un po' dove eccolo qua ma guardatela dentro un nido oh povretta si ma in realtà ragazzi io questo ce l'avevo già che pedata che le ha dato purezza per liberarla da quel nido però non so perché mi viene a mostrare poggi che ho già preso e quindi almeno vi siete visti l'animazione ok segnato a stare da sotto questo punto qua è bellissimo da vedere ok andiamo avanti no salti, non sto cercando a stare sinceramente è una bella affanculo aiuto cazzo sbagliata, va affanculo intanto è positivo nel senso che passa il tempo e poi scappa se si eccitano in pace ovviamente un bel frango blu ecco ragazzi, gaffateci voi che è meglio bastardo schifo, guarda, 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 guarda i coglioni stronti fotiti Seltas anche la grandissima fotiti PAM, PAM, PAM PAM! ancora siete esistenti? allora regoliamo questa taccia ok zoom dove cavolo sei il chezzo si fa desiderare per carità non è che mi piace quel mostro anzi lo odio però lo devo abbattere un'bomb un'bomb è tornato al saltas perché non ti fai da fare i tuoi saltas vediamo se riescono fammi notare ecco la gente non è sempre stato di notarmi c'è un po e io adesso me ne vado la santa ma franculo e che cazzo immaginavo non è più come se c'è una cosa del genere addio cristo esplori tutte le aree il mostro che te serve chissà dove cazzo eccolo dov'è ciao Kezu proprio te volevo che problemi serie che abbiamo aiuto quanto voglio queste due scariche salta snob mi coglioni ma lei salta che zu aiuto ma per fare la ma io vado su qua bastardo hai avuto la mia stessa idea che schifoso che sei ok se guardate bastarda dai se hai il test da merda adesso lascio metto a urlare ok meglio che sei saltato giù Kezu adesso faccio merda vai affanculo cazza fai sì se guarda dicendo che sta vengono a te se tu salta sono a peser cazzo dio mostro schifoso bastarda Se ne ti ha scavato i coglioni Non vai a fare un culo anche te Forza ragazzi Non so che la scossa, giusto? Eh, tutta leva C'è proprio un cazzo, non lo capisco La setta sta di ambientarsi su un muro e sta di silagio Porca puttana Per fare va Che cazzo fai? No cazzo, manco la setta ho tirata Vabbè, la sua cazzo Bravo, Kezu Porca, quella puttana Capisco perché non riesco a cavalcarla Se ne ho tirato qualche patina Che sto cazzo Senta, io sai da cavare la cazzo Sì o meglio Madonna puttana Oh, figlio mia che te sei cantato a stronzo Buonanotte Questa qua è con la metatona Andrea Buonanotte Non ho scelto, se non ti cavi dal cazzo, guarda Ti piaci io cavarti dal cazzo Faccio una poltiglia di te Che stronzo che sei cazzo Fatelo dire Pan Pan Eh, vado a cagare Ma io non mi faccio fottere Non so perché sbatto su di lui Aiuto Che culo Che culo Che culo Che culo Bravi ragazzi Una bella canonata Che culo Che culo eheh t'ha fottuto meravigliati cazzo di già porca puttana ma cazzo possibile che sia già scappare pan 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 mori cazzo giù ragazzi giù fallo fuori 6 ottimo ragazzi ragazzi è andata e anche il celta si è cavato dal cazzo benone ragazzi benone io torno davvero e così completo la missione dai alta rota non tol cazzo eheh me la famosa a meno che non mi compaia un mostro che devo affrontare l'ultimo che mi manca e poi potrei anche andarmela ma se così non fosse io me la posso anche andare anzi facciamo proprio così me la vado e ciao allora 70 punti prima caccia gli ha preso 200 punti anche 300 ma subiettivo per 1.2 14498 punti totale un ottimo ah non ho mai non ho mai con questo ok ok allora adesso controllo un po qua eh già mercante vivariana allora allora vediamo un po' lei come ha messo ah va bene allora tiro tutto quello che mi serve va bene va bene va bene catalizzatore sotto due oh my god va bene allora via la manetta doppio meglio e poi faremo cosa vediamo questo perfetto ottimo alla prossima alla prossima mercante allora ragazzi visto che sono qui controllo un po' tutte le zone che non ci sto andando da tempo quindi che non ci siano messaggi di degli abitanti che mi devono parlare allora allora heart vediamo un po' un po' che non c'è vado più quindi è meglio che che vedo e infatti come vedete qualcuno mi deve parlare vediamo un po' cosa hanno da dirmi o darsi che abbiamo nuove missioni da affidarmi mondi anzi in realtà sarebbe buonasera comunque il padre della ragazzina mi dica capo di art è abbastanza grazie piccolina e sala grande piena d'avventura nel cuore spirito d'avventura nel cuore anche piaceria è impegnata che lei sa come la ragazzina è impegnata che lei sa bene immaginavo che doveva fidarmi la missione qui ragazzi ci ritornano un'altra volta un bacio non è stato catarro che pareva che doveva fidarmi la missione come se ne fossi accorto ma però e ben due mi devono parlare buona sera a caravanire in canza in caravanire spirito giulivo mi dica signor spirito giulivo non c'è mai ragazzi non è che sbarro io ragazzo a me eh eh espirami eh si esatto ho già raccolto in passato senz'altro lo ritenga già fatto mi dica anziano eh 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 Sarà da dire, oh mio dio, brutti ricordi per le consegne delle uova. Ok, manca la riviera qua, la riviera cieco, ed ecco qua il miau, fifone, mi deve parlare altra missione da fidarmi, sicuro, ci mancherà, se tu rivedessi per non essi di paura. Eh, stai scegliando un po' troppo. Ed ecco la zampa che ti darò di nuovo. Vabbè, è chiaro. Eh, infatti va proprio così. Chi è che mi deve parlare qua? Altro miau, dimmi miau pescatore. Non c'è mai, grazie. Ci mancherà, beh. Ha il settimo pelo, è bella questa. Ok, qua nessun'altro, mi deve parlare. Benone. Quindi io tornerei a barra. Anzi, ragazzi, sì. Concludiamo con una bella carezza di Poggi. Poggi, vieni qua. Bene, ragazzi. Con questa coccolosità anche in play si dice qui e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.